Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone e benvenuti in questo nuovo video plug o come dire, il video più speciale del mondo o come dire, non lo so come dirlo non lo so e non lo so comunque questo video io sono felicissimo non so se portarmi fuori un'altra volta perché non lo so non lo so se portarmi fuori raga vi scrivetelo nei miei commenti e vi farò andare fuori da mia nonna o posso ottenere non me lo scrivete subito nei commenti perché sono da mio padre oppure no, scrivetelo subito giù nei commenti e mettete un bel like suonate la campanella sotto in descrizione ci stanno tutti i link e seguitemi sono Forza McClout e qui sotto sono tutti i miei link iscrivetevi mettete un bel like e se volete un altro video così come lo sto facendo adesso venite con me andare fuori o no mettete un bel like fra uno voglio soltanto farvi visitare un po' la mia voglio soltanto farvi visitare un po' la mia i miei link sono senza giupino io sono senza giubino io provavo la moto Comunque ho visto che a voi A qualcuno piace la macchina E a qualcuno piace la moto E sono fuori quindi Senza che me lo scrivete nei commenti Però se lo vedete Che andrò fuori Scrivetelo giù nei commenti E in descrizione Rieniamo dentro Se non prendo sto cacchio di raffreddore Ce l'ho preso Come sempre Ok raga Non mi vede Mi raccomando che di spiaggia Dottore 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 Bisogna lavorare sulla cucina Prova di modo Certo inglese Molto presto Mi raccomando Tutti i colori Mi raccomando Mi raccomando Siamo che un gatto Viene strangolato Da un altro gatto Che tiene a sua bocca Stangolato Sott'acqua Ok fermo No No Non ti pensano Sì No Ecco Raga mi sono fatto mare Questo video sarà un po' lungo raga Un po' lunghino sarà Quindi Se volete Un altro video Così come lo sto facendo Adesso Suonate la campanellina E mettete tutti i like Che volete Anche uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Dieci E arriviamo A cinquemila Like E farò Un nuovo Video Vi raccomando Ragazzi Ci vediamo Un altro giorno Ciao E vi raccomando Fate bravi Ciao ragazzi E vi raccomando